Allora, io parlo di spalle perché non posso far vedere il mio volto. Sono un po' come liberato. Sono liberato. Parlo di spalle perché non posso assolutamente far vedere il mio volto perché sono devastato dall'acido da un predatore, da un predator, uno di quei pedofili siciliani che girano in Ticino, diciamo. Ha figurato la vita, praticamente. È stato depredato del suo volto. È del mio sesso. È stato depredato dalla polizia, del mio sesso, privato del mio sesso dalla polizia ticinese. Siamo anima e pratica, non abbiamo più il corpo. È stato ormai troppo solo il colon. Ecco, giratevi questo è il vostro, passatevi lo sapete da te. Chi sei Don Nicolò? Io sono Babic, il chitarrista dell'Andrione. Suono la chitarra media da 16 anni. Ho imparato alle scuole medie quando i miei professori mi obbligavano a suonarla. Ho conosciuto Davide già quando non aveva più il volto, in una fogna verso Piacenza Sud, mi sembra. E io non so chi sono. Io sono Bobba. E sono il Simple Comp. Sono uno strumento molto complesso. Il sasso del gruppo. Il sasso a corde. Il sasso a corde. E lo... Si percuote per terra. L'incredibile Ulco. Incredibile Bobo. Sono il sasso a corde. Si percuote per terra e produce... Si bemolle acutissimo. Si bemolle acutissimo, esatto. Che lo sentono solo i cani. Cani. Orbo, chi sei tu? Io sono Nicolò Di Mecconio. Sono nato in una taverna. Privato della Stai Fan. Sono morto in un sottotetto. Sono il settimo accordo dominante. E ogni tanto anche dominato. Da cosa? Dalla vita? Sono stato dominato dalle tonalità aumentate. Quando ho conosciuto... L'amore. Sì, il settimo Mecconio. Sono la prima fece evacuata da questo mondo negli anni 90. Sono rimasto in questo Mecconio. Ci sono tutti gli squinti di albero. Ci sono tutti gli appena stati persi. Seconda domanda? Sono lunghi. Voi la fareste mai a un concerto tipo PX? Io non ci sono mai nato. Dipende da quanto costa di dire. Io ci sono stato una volta. Io sono quello che si è aggiunto per ultimo a tutta la carovana. Io ci andrei perché ci sono andato. Li ho visti al Miami. Ma loro non ci sono mai stati a un concerto di Poppix. Giusto? Mai ci riusciranno ad andare. Ci riusciranno ad andare. Quando ci saranno i nostri figli. Quando ci saranno i gruppi cover. Sì, che faranno i Poppix. Potremmo in qualche modo andare a vederli. E pensare di essere un concerto di Poppix. Salve figo rapire delle persone. Istruirle. Voi avete qualche rito scaramantico pre-concerto? Whisky. E se ce l'avete fatecelo vedere. Whisky, questo qua. Whisky cola. Praticamente tentiamo di infilarlo in ogni buco del corpo. Praticamente bisogna applicare una lieve pressione sul torace di Davide. Scendere lentamente poi verso l'intestino crasso. Avvicinare il naso. Verso il buco del culo. E procede così. Questo è... Tutti i componenti devono eseguire questo rito. Esatto, questo rito. Tra una canzone e l'altra. Esatto, esatto. E... E il whisky. Quello è il whisky. Ok, ora vi facciamo vedere delle citazioni del... Delle parole. E voi ci dite cosa ne pensate. Vai, è bellissimo questo. La prima cosa che ti viene in mente. Ok. Vai, vai, vai. Mmm, ah, 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 young signorino. Che ti viene in mente? La prima cosa che ti viene in mente, Babic. Caccola. Caccola. Ah, young signorino. Mamma. Mamma. La mamma. Poi? Poi. Come le letterine. Oh, Trento. Trento, beh... Veramente Florida, pura. Sexy. Sexy. Trento, che ti viene in mente a te? Mi. B? Te che ti viene in mente con Trento? Semento. Semento, Trento. Semento. 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 Avanti, proprio. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Velocissimo. Miami 2018. Miami 2019. Miami 2019. Miami 2018. Shoah. Diaspora. Pogron. È veramente Mesa con Miami 2018. Mesa. 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 Federica Mesa Bughi. Vai. Reddito di cittadinanza. Eh, sì. Sì. Reddito di cittadinanza. Tricarico. Tricarico. Reddito di cittadinanza. Masco Rossi. Masco Rossi. Ultima. Aranza di cittadinanza. Quanta miseria nei quartieri di Lugano. Sì. Io vado a dire la Giu Giu Lantano. Ah no. Ah no. Fettore. Fettore. Perfetto. Successone. Grazie a voi. Grazie a voi. Voi siete? Pappè. Grazie a voi. Grazie a voi.